Nuovo appuntamento con Baschettiando, siamo qui alla nuova SACAR a Fondotoce, insieme a noi Alessio Fioravanti che per la seconda volta consecutiva viene a trovarci, il che significa che la polio a posta Cipira ha perso perché lui la faccia ce la mette sempre quando si perde, non deve diventare una consuetudine anche perché tra un po' comincia il playoff. Buonasera a tutti, non deve diventare una consuetudine, ci stava perché comunque tenere l'asticella della concentrazione e dell'attenzione sempre alta è difficile, specialmente dopo che abbia raggiunto il risultato del primo posto, ora si inizia a far sul serio e non possiamo più permetterci di sbagliare. Parleremo dell'accoppiamento, parleremo di eventuali cambiamenti, se ce ne sarà qualcuno da preparare al mistero di playoff, insieme ad Alessio Andrea Marosic, uno dei grandi protagonisti della vittoria della Paffoni a Biella, ciao Andrea. Buonasera, buonasera a tutti. Insomma che soddisfazione è stata, anche penso per te personale, giocare una partita del genere, partire in quintetto, avere tantissimi minuti e soprattutto ripagare la fiducia di coach Faina. Sì, siamo molto contenti soprattutto per la vittoria perché è una vittoria che ci dà morale, ci dà benzina da mettere per prepararci al meglio a questo turno di playoff che ormai è matematicamente certo. Quindi sono contento sia per la mia prestazione, perché chiaramente mi fa piacere, ma chiaramente la cosa che mi dà più felicità è il fatto di aver giocato una partita che era comunque importante, era sentita anche dai tifosi. e noi volevamo comunque ripagare un minimo visto le ultime due sconfitte, la vittoria in casa ci ha aiutato, ci ha dato morale, abbiamo preparato al meglio la partita e siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato. Insieme ad Andrea Marosic un altro grande protagonista della partita, un grande protagonista, tra l'altro a joker, eh? Tu sei un gioco? No, no, no. Non è un gioco. Non è un gioco. Non è un gioco. Ramon, una vittoria importante, no? Una vittoria importante per la squadra? Of course Any win is very important Especially for us At this moment We need to Find that right niche Or that right click to play together Because like Andrea said I heard him speak about the play out So we just trying to find That you know the style of play That we need to play to be able to win And do good in the play out Andrea? Possibly I can explain Italian I think I think All the victory Is important But for us Marale I think I think This moment But We play Play out And Noi Come si dice Find Troviamo Giusto style Giusta situazione Giusta sincronia Si Della giusta sincronia Per la squadra Si Stato facciamo gli applausi a Ramon Perché insomma Bravo Da un anno che è in Italia L'anno scorso a Tortona Quest'anno Partia Varese Non è facile trovare degli americani Che vogliono imparare l'italiano E lo abbiano imparato come Ramon Gallo Insomma Coach applausi Numero uno Numero uno Oh grazie Grazie Questo posso tradurlo anch'io Number one I can't translate Number one Numero uno Parlavamo Lo chiede tutte e tre No Che per i play out Che per i play off A livello psicologico E' chiaro che Il destino era segnato Andrea da circa un mese Si sapeva che I play off sarebbero stati inevitabili Però arrivarci in questa situazione C'è ancora una partita Sabato a Castelletto Contro Agrigento Ricordiamolo al Palamico Alle 21 Per provare il campo Per la squadra Ma soprattutto anche per provare A livello organizzativo Cosa significhi Andare a Castelletto Vedere che tutte le attrezzature Funzioni In un modo tale Da non avere brutte sorprese Poi ai play out Però dicevo Andare ai play out Con questa Anche leggerezza Posto che i play out Saranno tutto un altro campionato Si trova Iesi Che ha vinto una sua Delle ultime 11 partite Però Indubbiamente Anch'essa si giocherà tutto Però dico Arrivarci Con questo stato di forma A livello mentale Credo che sia Un passo in avanti Importante per voi Esattamente Sì I play out Sono molto difficili Soprattutto perché Chiaramente In gioco c'è tanto Arrivarci con la massima leggerezza È la cosa che Aiuta sicuramente A superare quei momenti Che succederà Durante la partita Di nervosismo Di tensione Perché comunque Entrambe le squadre Hanno tanto da perdere Quindi Arrivarci con la migliore Come si dice Con un gruppo più unito possibile Perché è questo Che ci aiuterà E ci permetterà Di Se Riusciamo ad esprimere Il nostro basket Perché io credo Che quando Si è visto Anche quando Riusciamo A fare le nostre cose Voglio dire Non penso Che a livello di gioco Abbiamo nulla Da invidiare Anche ad altre squadre In una classifica Che sono sopra di noi Quindi Voglio dire Giocare con questa mentalità Con una mentalità libera Ti aiuta a esprimere Il miglior basket possibile Secondo me Indipendentemente Poi da quello Che potrà essere il risultato Chiedo a Ramona E poi chiedo anche al coach A livello psicologico Cosa significa Arrivare ai playoff Ai playout Con la testa pronta L'impressione Che siete un pochettino Più liberi Anche tu e Tyler Cioè io ho visto La partita Domenica Biella L'impressione Che i vostri cavalli I cavalli del vostro motore Fossero più liberi Di essere spregionati Questa è difficile Da tradurre Vediamo se Andrea Siamo giocati Con una mente libera E un rispetto Che abbiamo spiegato Che abbiamo spiegato Prima Do you think About The way we play The way we play After the change The switch Of the coaches Io I mean Inglés Prima I think I think He allows The players To Like you said Play with a free mind And We have players That can Make plays All the time At any time On the court You know We have From The point guards To the big men All of us Can make plays So I think I think The coach Allows us To play And try to find Our way During the game Italiano Giocatori Giocatori Giochi Più libri Testa Non tanti Problema Quando Noi giochi Noi palla Comunichiamo Comunichiamo Sempre E' Più 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 Facile Più Facile Più Coach Sul Stato Mentale Di Una squadra Che vai Playoff Playout Bisogna Assolutamente Andrea Tu hai parlato Di gruppo E io Sono attento Ai dettagli E non mi è sfuggito Il fatto che Correggimi Se sbaglio Per la prima volta Ho visto Dopo una partita Dopo una vittoria Una foto di gruppo Con dei sorrisi In uno spogliatoio Anche queste Sono Dei segnali Importanti Tante volte Ho detto Che l'impressione Ma anche Dalle parole Vostre Nelle interviste O anche Nelle chiacchierate Era che mancasse Davvero Questo gruppo Che magari In alcune partite Poteva fare la differenza In passato Ultimamente E' vero Che ci vuole Tanto tempo A formare un gruppo E che vincere Aiuta a formarlo Ripeto Quella istantanea Con I selfie Nello spogliatoio Di Biella Ha un po' Fatto il giro Della rete Ed era una cosa Che non si è mai vista Quest'anno Per esempio Guarda Non so dirti Fino Prima che io Posso parlare Nel senso L'esperienza Che ho vissuto Da quando sono arrivato qua E Magari Non è mai stata espressa Questa cosa Sicuramente Ti posso Cioè sicuramente Così è un dato di fatto Lo dici Lo stai dicendo te Quindi Ti credo su sta cosa Magari Però io Quello che ho visto Comunque Di fatto un gruppo C'era lo stesso Con Ogni Problematica Che sono le classiche Problematiche Che si possono avere All'interno di una famiglia Perché alla fine Quando noi iniziamo un anno All'interno dello spogliatoio Quello che si cerca di creare Si cerca di creare Uno spirito Che è quello familiare Che ci permetta di Essere il più Uniti possibili Anche se Alle volte ci sono personalità Ci possono essere personalità Che non vanno D'accordo Non si può essere Non si può andare d'accordo Sempre con tutti Il fatto è che Questo comunque È il nostro lavoro E noi quindi In campo Siccome la comunicazione È una cosa fondamentale Avere un gruppo unito Che comunica bene Secondo me È la chiave Per vincere le partite È quello che fa la differenza Quando si incontra Una squadra Che è stata Che è stata costruita Che gioca insieme Da un mese Da due mesi Rispetto ad una squadra Che magari gioca insieme Da due anni La differenza Sta semplicemente Nel conoscersi E nel comunicare Saper comunicare Chiedo anche A Ramon Questo E poi chiedo anche All'Alessio In ottica di Domo Due parole sul gruppo Cosa ne pensi I tuoi compagni Tu avevi fatto L'intervista Quando sei arrivato Dopo due mesi Un bilancio Di questa tua avventura A Omegna Sei contento Di questa scelta Che hai fatto E' spiegare Come ti senti In team Con i tuoi Teammati E dopo due mesi Che sei qui Mi sento Buono Mi sento Mi piace Tutti i miei Teammati Ti sento Ti sento Ti sento È un momento È un momento Per tutti Perché Non vogliamo In un'esercizio Ma Da due mesi Che ho stato Qui È stato Un'esercizio È un'esercizio Abbiamo fatto un pensiero positivo, perché le nostre carriere e la nostra vita dipendono sull'italiano. Quindi è più facile, perché comunque il tuo obiettivo è quello di vincere. Il play-out, essendo da una prospettiva più negativa, l'idea migliore è quella di affrontarla con la mente libera, quindi più sereno è possibile. Lui dice che si trova benissimo, perché anche questo clima che si crea in spogliatoio, dove si scherza, nei momenti anche più difficili aiuta a superarli. Perfetto. Alessio, quanto è importante anche il tuo rigruppo, un gruppo granitico. Due sconfitte non erano mai arrivate, magari questa settimana si riporta l'asticella di attenzione e concettazione a livello 110. Sicuramente non eravamo abituati a perdere, avevamo perso due partite in 20 giornate. Però dopo aver avuto la certezza matematica del primo posto era anche un po' normale cercare di dar spazio a tutti, non giocare proprio esattamente come poi giocheremo a play-off, perché comunque anche con Savigliano io ho il vantaggio di far rivedere tutto tutto, considerando il fatto che magari rincontriamo in semifinale, non glielo volevo dare. Il gruppo dei ragazzi è un gruppo che sta bene insieme, che ha capito qual è la strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi. Sicuramente la cosa fondamentale è che bisogna più ragionare di squadra che piuttosto singolarmente, perché la mia squadra è una squadra che vince se i giocatori vanno in doppia cifra e non se uno fa 30 e gli altri fanno 5. Questo è un fatto che ci ho lavorato tanto, devono capirlo loro, che poi comunque giocando insieme ci si diverte di più. E questo secondo me a play-off farà la differenza. Parliamo anche dell'accoppiamento dei play-off, perché anche dipende qualcosina dal fatto che se Casale o meno farà i play-off, ne abbiamo già parlato la scorsa volta. Chiedo a Ramon e a Andrea questo, insomma io sono stato domenica a Biella, ed è stato veramente un grandissimo spettacolo. Bisogna fare i complimenti al pubblico di Biella, perché credo che la coreografia, ma anche la professionalità da parte di tutti, non l'avevo mai visto in questa Lega quest'anno, quindi davvero complimenti sinceri alla società. È stato, lo chiedo anche a Ramon, anche questo un valore aggiunto alla vittoria, cioè il fatto di aver vinto di fronte a 3.500 tifosi, di cui anche più di 300 arrivati da Omegna, credo che abbia dato un ulteriore slancio a tutti. Yeah, like you said, I think it was great for us as a team to get the win in front of, you know, all of our supporting cast. And I just, we all want to thank everybody for coming out and even, you know, attending the game because, you know, that our fans being there gave us extra energy. You know, it gave us, you know, times where we probably thought, you know, we was down and if you go away to away game, you don't hear none of your fans. So we just want to thank everybody that came out to watch the game and, you know, I appreciate everybody here too. It's the utmost respect for... I like the way the program is ran and stuff like that. It's great. Andre, tu capisci? Allora, lui dice che è d'accordo con te, dice che questa vittoria è stata molto importante perché, e ringrazia soprattutto i tifosi per essere venuti perché è molto importante il loro supporto. Perché grazie... Quando ho sbagli è vedere gli occhi dei tifosi. Esatto, ha detto appunto che grazie al supporto dei tifosi che sono venuti, comunque ci danno la carica a superare quei momenti difficili, a vedere le facce che ti caricano, a trovare l'energia dove magari in quel momento a noi manca. Quanto ti sei divertito a schiacciare tu e Tyler sotto la curva di Biella però? Come ti sembrava quando ti stava a schiacciare? Quando ti stava a schiacciare i miei fatti di Biella? Oh, sì, è stato ecco. Perché due giocatori prima, due giocatori stavano tangerci e i miei fatti di Biella stava chiamando a noi, e stava a fare cose stagge. E, you know, per avere questo rilievo, quando ti stava a schiacciare, c'è molta energia. Io stavo a schiacciare. Io sono impazzito quando Tyler, Dunk, però un momento, due giochi, prima i fan, Fana, Pala, Galloway, Tyler, no, 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 va bene, e poi lui, io passo. Poi l'hai fatto anche tu dopo la Dunk, eh? Ah, sì, quando io, Dunk, lui, mio fratello, non male, Ramon, dai, dai, no, va bene, tra l'altro un passaggio di Toschino di Ramon sarebbe venuto giù il palazzetto, il settore, eh? Il rapporto con Tyler, quanto è importante avere un giocatore come lui, che era già inserito, quanto è stato importante per il tuo inserimento? Quanto è importante la relazione con T, e anche per il tuo inserimento in un gruppo? È molto, molto importante, molto importante, perché lui ha aiutato a me, you know, get used to the play, però lui, come si dice, help? Aiutare. Aiutare me, giochi, squadra, no, 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 no conosco, no conosco tutti. Sì, molto importante, però quando secondo lì, ogni due in America, molto importante gli americani non conoscono l'unico, va bene. Da chi ti aspetti un salto di qualità invece, tu coach? Quali dei tuoi giocatori aspetti qualcosina in più in vista del playoff? Io aspetto più che, si è parlato l'altra volta della crescita di Kubekalovic, questa deve continuare, più che parlare dei singoli mi aspetto grande maturità da tutti, dalla squadra, perché ti ripeto, i campionati si vincono insieme non singolarmente, perché poi alla fine, se Domodosso la va in Serie B, ci andiamo tutti, così come se Domodosso la perde, perdono tutti, e se Domodosso la vince, vince Foti, o vince Realini, o vince... Quindi dobbiamo lavorare tutti nella solita direzione. Perfetto, andiamo a vederci adesso il servizio relativo alla vittoria della Paffoni e Biella, con le relative pagelle, l'NVP, il voto più alto, lo ha preso proprio Andrea Maros, che si è meritato un buon otto. Perfetto, è difficile tradurre, è difficile tradurre, come si dice il voto in Biella? Perfetto, per me Andrea è il migliore di Biella, 8 voti, e tu 7, 5. Perfetto, perfetto, se io avessi ricevuto alcun trofeo o accolato, lo darò a lui. No, no, seriamente, seriamente. Però lui, 10 ribalti, 11 punti, momentum, difesa, energia, molto va bene. Dopo, sei d'accordo con la mia pagella? Io lo so, io ho visto lui all'elemento, io lo so, lui contributo, contributo, contributo. Quindi non sei sorpreso dalla sua partita. Ti va bene l'otto? Dopo, dopo pago lui, dopo anche una signora te, dopo il prossimo posto. 8 in pagella, 7 e mezzo per Galo, andiamo a vederci. Servizio e pagella. È una vittoria che vale soprattutto per il morale, non tanto per la classifica, quella conquistata con pieno ed assoluto merito dalla Paffoni, ieri alla Biella Forum. Una finale che dice 91 a 77 per Omenia, che ha ammutolito gli oltre 3.500 spettatori presenti al Palasport di Biella, dei quali più di 300 provenienti dal Lago d'Orta. Una dimostrazione di forza su entrambi i lati del campo da parte di Gurini e compagni. Offensivamente, dicono tutto, i 91 punti scritti a referto con Galloway e Smith, assoluti protagonisti nell'allungo decisivo nel corso della terzo e nella quarto. Ma anche difensivamente la Paffoni ha fatto le cose giuste, decidendo di aggredire gli avversari, di raddoppiare e prestando dunque il fianco ai contropiedi in cui sono andati a nozze Galloway e Smith, autori di una serie impressionante di schiacciate nel corso del secondo tempo. Una dimostrazione di freschezza, una dimostrazione di tenuta anche mentale della squadra di Pippo Faina. Sarebbe difficile trovare qualcuno che non abbia meritato la piena sufficienza. Non si può non menzionare la straordinaria partita di Andrea Marusic, partito in equintetto, visto il forfè per problemi muscolari di Antonio Iannuzzi, ha ripagato la fiducia del suo allenatore con una partita in doppia cifra, con difesa, con rimbalzi e con il linguaggio del corpo giusto. Bene, benissimo, anche i due play Zanelli e Cappelletti che hanno fatto le scelte giuste, al momento giusto in particolare, trovando tre canesti consecutivi nel momento in cui Biella aveva preso in mano la partita andando in avvantaggio sul finire del terzo quarto. Positive anche le prestazioni di Galmarini che ha fatto il suo conquistando rimbalzi offensivi, trovando anche un tapini importantissimo. Con questo successo, come dicevamo, cambia poco in chiave classifica. La Perfoni rimane penultima ma lancia un chiarissimo messaggio alle avversarie in vista dei play-out. Se questa squadra gioca come ha giocato ieri a Biella, la salvezza non dovrebbe davvero sfuggire. Zanelli 7, gioca non tantissimo ma è lucido e precisissimo al tiro in fase di crescita. Galloway 7,5, decisivo sfodera una prestazione maiuscola al leader offensivo che mancava. Casella 6, si prende una domenica di riposo dopo una serie di ottime prestazioni. Marusic 8, l'uomo che non ti aspetti, si regala una partita da urlo. In doppia cifra, segna, difende, si batte e Omenia apprezza questi giocatori. Smith 7,5, un altro che ha il killer instinct, devasta la difesa di Biella con 4 di casi 4 schiacciate consecutive nel momento cruciale. Cappelletti 7, bravissimo, segna due canestri che pesano tantissimo quando l'Angelico mette il naso avanti, regala anche assist perfetti. Gurini 7, prova solida su entrambi i lati del campo, chiude in doppia cifra. Galmarini 7, su di lui si può contare rimbalzi, stoppate e anche punti misteriosamente ignorato prima dell'avvento di Faina. Sì, grazie. Adesso aspetta, gliele facciamo fare anche a coach, per Domodossola. No, la prossima volta viene un giocatore, se non fa un giocatore. Stiamo scherzando, dunque guardiamo oltre per tutti, no? Detto che in Serie B Amami ha perso il suo spareggio a Faenza e quindi si giocherà tutto sabato, sperando che da Piombino arrivino delle buone notizie e arrivi la sconfitta proprio di Faenza e non la vittoria, che significerebbe che in caso di vittoria appunto da Amami potrebbe essere salva. Guardiamo ai play-out, no? E guardiamo ai play-off. I play-out porteranno Iesi, che in questo momento è in grande difficoltà, nel senso che ha vinto, l'ho detto prima, una delle ultime undici partite, però si azzera tutto, però qualcosa dal mercato arriverà, sembra Iesi che sta trattando, sta cercando disperatamente di mettere un paio di giocatori, nella fattispecie cambiare un americano che potrebbe essere Hunter, e l'inserimento eventualmente di un passaportato, si fanno i nomi di Blizzard, si fa il nome di Mortellaro, si fa il nome di Callan, tutto dipenderà anche dai risultati, anche se Mortellaro in questo momento sembra destinato a rinforzare il reparto lunghi di Verona in ottica a play-off, se Verona si qualificherà appunto ai play-off. Vi chiedo a tutti e due cosa può fare la differenza in questo spareggio, cioè il fattore campo ce l'avrà Iesi, ma credo che in un play-out e sull'onda emotiva è differente delle due squadre che arrivano al play-out in condizioni psicofisiche differenti, nel senso che la Paffoni ci arriva col vento in poppa, Iesi un pochettino in grande difficoltà, quindi credo che il fattore campo si annulli anche perché con il rispetto di Iesi non si va a giocare al Paladozza, non si va a giocare al Biela Forum, si va a giocare a Iesi dove non è che ci sia grande pubblico. Allora cosa può fare la differenza in vista dei play-out, Andrea? Sicuramente quello che farà la differenza sarà l'aspetto emotivo con cui si affronterà la gara. Io gli ho fatti i play-out con Castelletto qualche anno fa e penso che quelle partite si vincano solo se hai una grande voglia di vincere, quindi devi proprio aggredire la partita in maniera fisica e mentale e giocarti perché in questo momento ti stai giocando il tutto per tutto, quindi non hai possibilità, non di sbagliare, ma non hai possibilità di pensare e ripensare all'errore che hai fatto. Quando invece durante la stagione puoi permetterti di stare a valutare, a ragionarci sopra, quando ci sono i play-out non conta, si è sbagliato, si cancella l'errore, si va avanti perché l'importante è vincere, non c'è nient'altro. Ramon? Qual è la chiave per l'approccio del play-out? Penso che la chiave è solo noi che giochiamo aggressivamente, offensivamente e difensivamente. È semplice, giochiamo il game per vincere, giochiamo in play-out, giochiamo in play-off, giochiamo in vincere. Hai un premisto? Of course, always, always, always after me. Me too. Casale e Monferrato, poi voglio chiedere una cosa anche dal punto di vista tattico, che secondo me è cambiata e poi ve lo chiedo. Prendi la bestia peggiore, nel senso che Casale bisognerà capire quello che succederà l'ultima giornata, che giocherà in casa contro Roma, stiamo parlando della Serie 2, se Casale va in play-off, è chiaro che è un piccolo grande vantaggio per Napoli opposti, nel senso che verosimilmente i giocatori giovani che hanno il doppio tesseramento non giocherebbero i play-off di Serie C, ma giocherebbero quelli di Serie 2. Quindi domenica dovete fare assolutamente il tifo per Casale e perché via la perda in trasferta a Siena. Però detto questo, ripeto, forse la cliente è più scomoda, no? Subito un quarto, vero? Innanzitutto, io domenica se c'è il sole vado in bicicletta, la sera c'è Juve e Fiorentina, Juve, quindi a me di Osa Fanno in Serie A non me ne frega niente. Poi... Bugiardo perché mi hai scritto, mi hai scritto... Non lo smentisco. Secondo me la bestia peggiore è la pesa Casale, perché comunque deve giocare contro la prima in classifica. Per me, se Casale non andasse ai play-off di Serie A, per me possano far giocare anche gli americani della prima squadra. Noi dobbiamo essere pronti, se si vince il campionato, vince con tutti, non importa il momento che sia quarta, semifinale o finale. Quindi sì, può essere un vantaggio, però chiaramente tutto dipende dall'approccio che mettiamo nell'affrontare questa serie. L'altro è la Sanders che è andato a finire a Biela, mi sfugge adesso il secondo che è stato preso al posto di Sanders. E poi giocate in casa, che non è un vantaggio da poco, eh? Noi in casa, a parte la sconfitta con le Sandria, abbiamo sempre dato... Credo che la partita che abbiamo vinto meno è stata con College di 6, poi abbiamo sempre dato 20 a tutti. Ora non è per passare da pesuntuoso, però sinceramente io mi sono rotto le scatole di SintiD, che Casale, Casale, Casale. Sembra quasi Domodossola sia la vittima sacrificale, perché Casale è arrivato a ottava. Assolutamente no. Quindi noi giochiamo con Casale, bene, vinceremo con Casale. Un messaggio chiaro anche ai tuoi giocatori e a tutto l'ambiente, no? Appunto. Noi abbiamo fatto questo lavoro di avvicinamento al playoff per essere pronti al 100% quando arrivano là. Queste due sconfitte sono servite, perché comunque è importante capire cosa si prova quando si perde, perché essere abituati troppo a vincere magari puoi anche creare un po' di appagamento. E quindi va bene così. Dicevo che dal punto di vista tattico la cosa innegabile è che con l'avvento di Faina la Paffone fa il contropiede, che prima non faceva. Cioè sabato, domenica a Biella sono arrivate cinque schiacciate in contropiede, tre con Smith, mentre qua di Ramone la difesa schierata di fatto, un contropiede con Cappelletti che ha subito fallo, un contropiede con Gurini che poi ha scaricato a Zanelli per la tripa, però è un dato di fatto. Cioè contropiede prima veniva fatto poco, perché forse c'era una difesa diversa, una situazione diversa. Adesso una squadra che corre, abbiamo visto che questa squadra può correre, e forse dalla corsa tra energia tutto, tutta la squadra. O sbaglio? I think that we're young, so with young players, we have a lot of energy, so we should run more. And it's kind of hard when you have young players thinking too much because they think when they mess up, when they're wrong, they're in their head, they're done, finished. Io penso, noi squadra è giovane, però molto va bene per il cuore quando giochi. Quando pensavi tanto, è sbagliato, è sbagliato, uno personale testa male, però adesso testa male, non focalizzata quando giochi. And I think the coach just allows us to play. me, io, Zane, Capelletti, tutti, creato per l'altro. Grande. Mi sembra una lode a Faina, se non ho capito male. Sistema di gioco, più libero. Guarda, io sinceramente, quello che ti posso dire è che sicuramente, c'è un clima... Quello che diceva lui, perché non hai capito... Lui dice praticamente che in questo momento noi siamo una squadra giovane, quindi noi abbiamo bisogno di correre, perché dobbiamo focalizzarsi anche meno sull'errore. Lui dice, prima magari ci si focalizzava troppo e quindi si era concentrati sull'errore, adesso anche se sbagliamo, bisogna continuare. Questo è quello che ha detto. Confidenza. Confidenza. Sì, maggiore confidenza, fiducia in se stessi. Per te invece, Andrea? Questo. Penso che, sinceramente, non so se questo sia stato dettato dal cambiamento tattico, tecnico che ha dato l'allenato coach appena arrivato, ma rispetto ad Ale Magro che c'era prima, non so dirti se c'è una differenza tecnica-tattica. Sicuramente ti posso dire che c'è una differenza, magari c'è più persone che si prendono più responsabilità, ecco, perché alla fine il nostro lavoro dell'allenatore si sa, è quello lì, se le cose non vanno male si è pronti anche a quello che è il taglio che fa parte del nostro lavoro. Ma a quel punto io penso che sia stato penso anche più un segnale che si voleva dare alla squadra più che magari un accorgimento tecnico-tattico perché penso che comunque siano due allenatori. Qualche cambiamento tattico c'è stato? Se c'è stato un cambiamento tattico sicuramente l'impronta di coach Faina si vede, non voglio assolutamente togliergli i meriti del lavoro che sta svolgendo, si mancherebbe, ma ma non secondo me sì, perché a quel punto la differenza quando un giocatore sbaglia la fa come ha detto bene Ramon la fa la testa perché se uno si concentra troppo allora dopo si demoralizza e dopo quando uno si demoralizza non è più in grado di esprimere quello che normalmente fa e quali siano le cause di questa frustrazione mentale la sa il giocatore non te la so dire quello che ti posso dire è che sicuramente adesso c'è per varie ragioni non so qual è stata la causa c'è un affrontare lo sbaglio in maniera diversa ecco cosa ne pensi tu coach poi chiudiamo la palacanessa è un gioco talmente di cambiamenti repentini quindi secondo me sta a pensare troppo sull'errore sì l'errore ci sta però la partita va avanti e quindi a volte giocare un po' più spenserati può essere soltanto un vantaggio l'ultima cosa che vi chiedo è il discorso di Castelletto no avventura nuova è brutto non poter giocare col fattore campo vero in casa i play out le regole le sappiamo non si scoprono oggi si può discutere ma purtroppo sono quelle che accoglienza ti aspetti cosa ti aspetti a Castelletto ride visto che in questo momento non c'è una squadra Castelletto di questo livello penso che nei miei confronti non ci sia no 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 scusa dicevo se ti aspetti che al di là della tanta gente che verrà domenia magari qualche appassionato della zona venga a vedere la partita poi si intendeva sì non so se per tifare o per gufare ecco questo sinceramente non lo so sicuramente penso che a Castelletto la pallacanestro manchi questo senza dubbio perché quello che ho vissuto io in cinque anni lì è stata comunque un'esperienza per me bellissima e quindi quello che ho imparato è che quella città comunque vuole cioè ci crede soprattutto quando crede nel progetto quindi la possibilità di vedersi magari anche se di play out un paio di partite che penso siano che speriamo di esprimere di una bella pallacanestro penso che sia un'occasione che possa possa portare anche gente anzi me lo auguro sia proprio un invito ufficiale almeno per Marro per la squadra perché penso che voglio dire a me piace sul campo questi antagonismi tra squadre perché creano sai nello sport hai detto una cosa sacro santo io ho anche qualche amico dei tifosi di Castelletto è chiaro che hai detto una cosa giusta cioè è una squadra che ormai manca da tre o quattro anni cioè diciamo che l'ascia di guerra è seppellita esatto cioè forse sarebbe diverso se la papone si sa giocare a Castelletto con una squadra di Castelletto che fa lo stesso campionato e quello è ovvio ma Castelletto per una serie di motivi che non stiamo a dire sono quattro anni che non ha la squadra di paracanestro e verosimilmente anche per i prossimi anni non ce l'avrà perché c'è una squadra che fa la promozione mi sembra e basta quindi detto questo secondo me questi antagonismi vanno bene finché rimangono confinati a livello sportivo poi se uno piace lo sport gli piace lo sport sempre si tifa Italia quando anche se uno è giuventino è milanista e quando gioca l'Italia è una nazionale così deve essere anche per la regione un messaggio di pace da parte di Andrea Margi secondo te ha convinto qualcuno? beh forse vediamo facciamo il quorum facciamo il quorum raggiungiamo tanto io ringrazio grazie coach grazie a voi mi raccomando basta scherzetti tra l'altro tra due settimane ricordiamo la Paffoni sabato a Castelletto alle 21 contro l'Egrigento i playoff come playout cominciano il domenica primo maggio alle ore 18 18 sì spero di un venire più in trasmissione per il motivo che detta l'inizio bravo poi probabilmente cambieremo il giorno una settimana dopo perché ci saranno proprio le partite dei playoff e dei playoff ringrazio Andrea Masvic grazie Andrea grazie a voi grazie Ramon Galloway grazie a mele you can singa ancora oh no ok io voglio sembrare figo va bene vuole sembrare figo ok sì l'ho ok grazie a Ramon Galloway adesso vi lascio al punto di giovanì con le immagini di Arona ci vediamo martedì prossimo si apre con una bella notizia la settimana dell'Arona Basket l'ex allenatore che portò Arona in C1 nella stagione 2004-2005 Marcello Signorelli è diventato capo allenatore della nazionale Uruguagia torna la vittoria la C-Silver di coach Bruno per i biancoverdi importante successo che garantisce l'accesso ai playoff con un turno di anticipo Arona sabato ha superato la ginnastica Torino con il punteggio di 71-69 nonostante le numerose assenze i lacuali giocano una buona prova riuscendo persino a scappare sul più 13 in apertura di terzo quarto Torino ha una reazione d'orgoglio e ritorna a contatto nel finale le giocate di Hidalgo e una decisiva tripla di Carone consegnano la vittoria nelle mani degli aronesi sconfitta per l'Under 18 regionale che si fa battere in casa da Domodossola partita dai due volti quella per i giovani vichinghi che dopo un inizio a rilento trovano un secondo quarto quasi perfetto nel secondo tempo gli equilibri si spezzano nuovamente e Domodossola riesce a scappare 51-67 il punteggio finale l'Under 16 regionale perde all'esordio nella seconda fase in quel di Biella partita caratterizzata da una difesa troppo blanda e disattenta dei giovani vichinghi che vedono Biella scappar via sul più 20 l'ultimo quarto vede una reazione dei biancoverdi che dominano la frazione rendendo il passivo meno pesante 75-65 il punteggio al termine combatte per 20 minuti prima di arrendersi l'Under 14 regionale di coach Romerio dopo un buon primo tempo le defezioni si fanno sentire nella seconda metà di gara Galliate ne approfitta e si impone per 42-100 prima sconfitta anche per l'Under 13 Elite che si ferma contro Pio Sasco dopo un match all'inseguimento Aruna rientra in partita solo nel finale a 4 minuti dal termine infatti Schweitzer e compagni si rimboccano le maniche e cominciano la rimonta Leveni 33 punti a 7 secondi dal termine si prende un buon tiro che il canestro non accoglie per la gioia di Pio Sasco brutta sconfitta per quel che riguarda l'atteggiamento dei ragazzi sperando che si possa imparare dagli errori commessi che non accoglie che non accoglie non accoglie e non accoglie